Ciao ragazzi bentornati sul canale di guadagnare online con le criptovalute questa sera andremo a vedere come guadagnare 100 dollari con una semplice iscrizione ad un sito e guadagnare fino a 200 dollari al giorno tramite delle piccole commissioni da effettuare ma prima vi ricordo di effettuare la registrazione al canale per rimanere sempre aggiornato con tutte le novità che andrò a pubblicare quotidianamente iscrivetevi anche al canale telegram cliccando su questo pulsante qui e noi adesso andiamo a parlare dell'argomento della serata andando sul mio sito quindi cliccando su questo pulsante si aprirà l'home page noi dobbiamo andare nella sezione airdrop e bounty ok e qui trovate commerce x per iscriversi basta cliccare qui bisogna risolvere il captcha cliccare su continua attendere 8 secondi e poi cliccare sul pulsante get link e ci si aprirà appunto commerce x dobbiamo fare ovviamente l'iscrizione al canale al sito io sono già iscritto quindi vado nel mio account allora come vedete ho 100 dollari sul mio account investiti cosa vuol dire vuol dire che andiamo a vedere gli investimenti che ci sono a disposizione allora quello da 20 dollari a 5000 dollari che penso sia quello più plausibile ci offre l'1% al giorno il reinvestimento è disponibile profita croale penso il ritiro vediamo se mi fa la traduzione accumulo dei profitti quotidiano tempo dei prelievi da 4 a 36 ore come vedete è già attivo cioè è già attivo è selezionato posso decidere eventualmente di incrementare tramite questi vari portafogli oppure semplicemente non fare nulla perché perché se andiamo nei tuoi depositi scendiamo in basso vediamo che c'è un deposito attivo appunto da 100 dollari effettuato da 0 giorni perché mi sono appena iscritto ed è praticamente il piano bonus quindi i 100 dollari di bonus che ci vengono dati alla registrazione quindi vengono depositati e ci danno lo 0,1 per cento quotidiano quindi senza fare niente noi abbiamo questi 100 dollari che ci vengono investiti automaticamente e che ci danno questo profitto senza fare assolutamente nulla se noi volessimo andare a incrementare i nostri introiti dobbiamo andare nella sezione bounty allora in questa sezione troviamo delle azioni che dobbiamo compiere per guadagnare delle cifre vedete 40 dollari 25 dollari 20 dollari 125 dollari via dicendo andiamo a vedere quelle su facebook allora traduciamo in italiano allora per esempio questa campagna da 40 dollari dobbiamo pubblicare un post di questa azienda sul nostro account facebook e sul gruppo facebook di commercex la pubblicazione loro suggeriscono che può includere eventualmente un deposito o un rinvestimento effettuato delle statistiche complessive dell'account quindi un aggiornamento dell'account e eventualmente delle opinioni o suggerimenti merito a questa azienda come bisogna procedere basta cliccare su invia approvazione inserire qui l'username utilizzato per iscriverci a commercex il link dell'account facebook che abbiamo pubblicato del link del post di facebook che abbiamo pubblicato e il link del gruppo di commercex nel quale appunto abbiamo pubblicato il post questo è il primo step poi ce ne sono altri come per esempio andiamoli a vedere proprio velocemente pubblicare praticamente la pubblicità di commercex su facebook e in tre gruppi aggiuntivi di facebook quindi praticamente sul nostro account e in tre gruppi questi sono i requisiti scrivere il titolo l'account deve essere pubblico bla 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 il resto ve lo leggete voi con calma questo ci da 25 dollari vabbè questi sono quelli inerenti a facebook poi c'è quella inerente a youtube come in questo caso io sto effettuando un video dimostrativo inerente a questa azienda cosa dovrò fare dovrò pubblicare ovviamente il video su youtube scrivere lo username che abbiamo utilizzato per iscriverci al sito e il link del video inerente a commercex poi ci sono anche allora su twitter non è disponibile c'è eventualmente la presentazione del programma quindi dobbiamo scaricare nella sezione vediamo promotional materials la presentazione che è in inglese pubblicarla su youtube oppure un'altra social media quindi facebook potrebbe andare benissimo vediamo bisogna scrivere un post dove le spiegazioni devono essere chiare relative all'attività e il video eventualmente deve essere più lungo di sei minuti per questo ci danno una ricompensa di 200 dollari ed effettuabile ogni settimana tutti questi compiti si possono fare giornalmente o in questo caso una volta a settimana ovviamente c'è il piano referral quindi possiamo andare a ecco qua la presentazione basta scaricare il pdf cliccando su questo link ma io vi volevo far vedere un'altra cosa ovvero il link eccolo qua il link di affiliazione è questo qui quindi dovete far iscrivere i vostri amici tramite questo link basta copiarlo cliccando su questo pulsante e via dicendo volevo per ultima cosa farvi vedere il discorso referrals che non mi ricordo affiliate system eccolo qua allora ci danno il 7% sui depositi dei nostri diretti il 2% sui depositi di quelli di secondo livello e l'1% su quelli del terzo livello poi ci sono vari step che si possono raggiungere tramite il numero di iscritti e il numero di iscritti attivi e via dicendo come vedete qua 20 partners 400 dollari vabbè potete andare a leggerveli con calma tanto comunque poi farò altri video inerenti a questo sito quindi vi terrò comunque aggiornati l'importante è effettuare l'iscrizione effettuare il deposito e appunto andare nella sessione bounty e fare uno o più di questi compiti che ci vengono suggeriti se abbiamo un blog possiamo appunto arrivare a raggiungere fino a 200 dollari al giorno pubblicando appunto degli articoli inerenti all'azienda bene con questo è tutto vi ricordo di effettuare l'iscrizione al canale iscrivetevi anche al canale telegram mi raccomando per rimanere più aggiornati con tutte le notizie che non riesco a darvi pubblicando video lasciate un like se questo video vi è piaciuto noi ci rivediamo alla prossima vi auguro una buona serata ciao